Dopo lo studio dell'INGV, l'ultimo in ordine di tempo sui terremoti, di cui il Rete 8 si è occupato nei giorni scorsi, abbiamo voluto raccogliere anche la testimonianza del ricercatore che si è occupato dello studio che esplora l'uso di dati satellitari per identificare dati magnetici potenzialmente associati alla fase preparatoria di alcuni terremoti. Gli scienziati coinvolti, tra cui Angelo De Santis, hanno esaminato le possibili anomalie magnetiche che precedono alcuni grandi eventi sismici. Lo studio ha analizzato più di mille terremoti tra il 2014 e il 2023. Viene fuori che più elevata la magnitudine più allunga la durata dell'anomalia magnetica rilevata dal satellite. Come si sa, la previsione del sisma è impossibile, ma la ricerca sui precursori rimane in ambito molto studiato e che va avanti. L'INGV sta lavorando per capire se sia possibile prevenere i terremoti, studiando il legame tra la terra solida e gli strati dell'atmosfera, soprattutto la ionosfera, lo strato ionizzato dell'atmosfera, durante quella che è la fase preparatoria ai terremoti. Negli ultimi anni abbiamo analizzato i dati raccolti dai satelliti su Orma dell'Agenzia Spaziale Europea e li abbiamo confrontati con forti terremoti avvenuti in Italia e in altre parti del mondo. Così facendo, abbiamo scoperto che entro dieci giorni prima di questi terremoti i satelliti rilevavano chiare anomali del campo magnetico. Di recente, con un studio finanziato dall'ASI, dal MURE, dall'INGV e l'Università di Teheran, abbiamo analizzato dieci anni di dati da satellite e terremoti sulla fascia sismi che va dall'Europa all'Himalaya. Abbiamo confermato questa correlazione a grande precisione e accuratezza. Anche se il metodo ancora di limiti, 36% di falsi allarmi, si tratta sicuramente di un passo importante verso la possibilità di prevedere i terremoti, un obiettivo ancora lontano, ma sempre più concreto.